ciao piccoli goblin questo electric o se lo volete dire con più foca impatto questo electric siamo tutti qui riuniti per fare un altro o riprendere più che altro una vecchia serie ovvero tre anime un cucciolo di foca quindi come prima cosa dobbiamo disegnare la testolina del cucciolo di foca puoi fare il ciuccio gli occhietti il corpicino le pinne e abbiamo finito chiuso il video ciao addio ci siete cascati lo so che ci siete cascati lanciamo la sigla tre personaggi di un anime anzi di tre mischiati bene miei cari amici del cuore qui abbiamo solo per voi di tre anime scelte appunto da voi di telegram e quindi vi ringrazio numero uno death the kid di soul eater poi abbiamo rio di devilman crybaby perché si è spenta la telecamera perché stavo dicendo poi abbiamo per chi non lo dovesse conoscere questo ragazzo qua brutto shouto todoroko che scrivo appositamente male per farmi insultare nei commenti così godo di my hero academia meglio direi bando alle ciance non perdiamo troppo tempo perché questa è la seconda volta che registro questo pezzo perché oggi non funziona niente ok proprio niente prima non funziona la tavoletta poi mi crasha il programma per registrare lo schermo lasciamo perdere quindi innanzitutto voglio trovare subito una bella posa accattivante non so se lo sapete ma gli esseri umani in generale arrivati a questa età lo saprete hanno la cosiddetta capa la capa se no capa no essere umano ok quindi fate la capa tutti i nostri personaggi qui presenti hanno il corpo relativamente snello ok ma quella qui vorrei lavorare una posa accattivante relativamente dinamica me lo immagino come se stesse un pochino camminando avanti no già non mi piacciono più queste gambe cancello tutto ciao non mi piace più niente cancello tutto ciao riniziamo dalla capa ovviamente non ho ancora la più palle idea di che diavolo di posa sto cercando di ottenere però il corpo un po a tre quarti quindi vado soltanto capire dove il mio pettorale ma forse questa gamba la devo fare un po più spostata non lo so voi che ne pensate delle gambe in generale qual è il vostro giudizio sulle gambe degli esseri umani secondo me sono un po inutili cioè io avendo un e tre di gambe so che sono un po inutili a parte la terza sono simpatico vero teo sei simpatico come la morte ok non mi piace nemmeno questa posa cancello tutto mi state divertendo bambini ho deciso che partirò dal corpo questa volta e non dalla testa perché ho paura che dopo la testa decida un po troppo la posa voglio prendere un po il carattere di rio fare un po il carattere appunto di un folle scatenato che molte volte lui mi ha dato queste questa impressione nell'anime che sto vedendo proprio ora watch in progress già soltanto primo episodio ammazza un sacco di persone così a caso in realtà neanche troppo a caso aveva un obiettivo in mente lo stile dell'anime artisticamente parlando il fantastico è bellissimo quindi vi consiglio ovviamente di dare a questo anime un'occasione se non l'avete fatto e sono contento che qualcuno me lo abbia suggerito proprio mentre che io lo sto vedendo su telegram qui lo metto in posizione da pistole o armi da fuoco in generale poi deciderò se mettere pistole proprio quelle di death the kid o mitra o non lo so ma voglio andare molto sullo stile un po cartunesco di soul leader affinché questo avvenga devo lavorare molto sui piedoni classici e tipici di soul leader è un po più basso minaccioso già così una posa abbastanza minacciosa se andiamo subito ad armare questo personaggio con un mitra in questo caso visto che rio preferisce i mitra o sarà che sono stato troppo colpito dalla prima scena in cui appare in devil my cry baby con questo fantastico mitra questo bellissimo cappotto bianco che appunto metterò sicuramente al mio personaggio ma si è proprio per questo che ho deciso di mettere i mitra pensa che brutto con tutto il rispetto per chi ha questo problema avere la r moscia mitra e la posa non mi dispiace adesso andrei a definire un po di più il tutto quindi con la mia gomma leggerisco il segno è un anime non è un anime se è un po trappola e quindi facciamo due belle tettone che male non ci stanno no giusto ok me la smetto subito iniziamo col definire il viso che ricordo e lo dico soprattutto chi magari vede questa serie per la prima volta un anime non può essere un anime se il mento non è rigorosamente triangolare o tendente almeno triangolare così come un anime non è un anime se non assomiglia vagamente una donna se noi lo vogliamo bello arrabbiato quindi mettiamo subito le sopracciglia in posizione una un po più alzata ovviamente individuo solo la posizione degli occhi per ora specchio delle mie brane individuo subito la palpebra c'è qualcosa che non mi piace di questa faccia non capisco cos'è intanto aggiungo un po di camicia un po di cravatta svolazzante o chi si è appena scritto luca ben arrivato luca ci ho messo queste alert che poi farò una gif dedicata di me che ballo quello che mi piace di questi tre personaggi che mischieremo molto bene uno sono i capelli sfrutteremo la asimmetria di questi capelli qui il doppio colore dei capelli di todoroko e il funghetto del nostro caro rio innanzitutto vuoi un po di vento abbiamo già deciso che il vento va da questa parte perché avete visto no la cravatta va di qua quindi anche i miei capelli saranno mossi da questa forza invisibile chiamata vento non so se ne avete mai sentito parlare o se siete mai state vittime del vento cerchiamo un bel funghetto cerchiamo di fare un bel fungotto su questa testa ok non male questo bel fungotto adesso una cosa che caratterizza il nostro rio qua su è il cappottone ma prima di mettere il cappottone io direi che posso lavorare con una camicia qui che sarà dentro i pantaloni magari essendo un po disordinata ne potremmo far uscire una parte da sotto i pantaloni perché no sarà rigorosamente a righe per richiamare appunto il nostro death the kid cui nome deriva da billy the kid pistolero dei film che non so altro sotto metto la giacca di my hero academia e sopra ancora posso andare a mettere il cappottone quindi molti molti strati molti strati di vestiti per quanto riguarda i capelli devono essere ovviamente rigorosamente divisi a metà visto shoto todoroki ok fino a qui ci siamo e le strisce del nostro death the kid il cappotto potrà essere nero o di colori invertiti bianco e nero non lo so piedi abbastanza cubici che richiamano sull'iter sempre quello stile lì un'ultima specchiata per vedere com'è questo braccio ha qualcosa che non va per chiudere lo schizzo mettere qualcosa di più di shoto todoroko io direi che possiamo andare a fare intelligentemente un mitra tipo tutto ghiacciato e uno viceversa tutto bello infuocato quindi sarebbe questo il nostro risultato finale dello schizzo almeno qui c'è un piede che già è un po troppo grande rispetto all'altro quindi vado un attimino a dargli una giustatina e secondo me ci siamo possiamo passare l'inchiostrazione con tanta musichetta magica che accompagnerà il tutto quindi mentre vedete questo video sta per iniziare questa parte alzatevi levatevi i pantaloni e rigorosamente in mutande iniziate a ballare ok ben trovati bambini anche voi vi starete chiedendo ma perché ho visto semplicemente l'inchiostrazione di un mitra e non del tutto beh bambini è perché abbiamo perso la registrazione non è fantastico il programma è crashato qui io sono tanto contento quando succedono queste cose così contento che mi vengono i brividi che partono proprio dal mignolo del piede salgono fin sopra i capelli non è fantastico comunque sia come avete visto l'inchiostrazione è andata a buon fine è andata bene almeno non ho perso la registrazione per quanto riguarda il colore e quindi vi lascio a questa sempre accompagnata da magnifica musica magari kawaii una musica che renderà più felice e piene le vostre giornate sicuramente prego che parta la colorazione ciao fringuellini avete visto che bei colori vi piace non c'è niente di più frustrante che tornare a fare un tre anime un disegno dopo tanto e perdere un terzo del video praticamente ovvero l'inchiostrazione se non altro io sono relativamente soddisfatto del disegno mi accorgo sempre di errori di proporzione quando lo vedo dopo giorni perché non è un disegno che faccio più almeno prima si lo facevo tutto d'un fiato ma al contrario lo suddivido in giorni proprio perché spero almeno che quando torno possa accorgermi di eventuali errori ma non me ne sono accorto finché non l'ho praticamente finito bravo peo diamo un premio questo uomo mi sento uno stupido ho dormito solo tre ore stanotte comunque sia il disegno sarà scaricabile sul canale telegram il link qui sotto se volete supportare il canale potete acquistare una maglietta con un logo magnifico che è il seguente non è bellissimo si è molto bello ricordatevi di mostrare un bel po di amore al pulsante qui sotto a forma di pollice in su se questo video vi è anche solo vagamente piaciuto iscriviti se non lo sei già unisciti all'armata di bambini fringuelli nuovo nome degli iscritti tanto domani cambia cioè prossimo video cambia cambio sempre mi annoio in fretta ma l'importante è che ti ricordi che anche se per sbaglio sei capitato qui questo è l'Electric buon